Ehi ragazzi ragazzi e benvenuti in questo nuovo video veramente veramente spettacolare Allora, quello che vi posso dire è semplicemente vi farò vedere una piccola clip di quello che ho fatto Ovviamente dal titolo già avete visto, cioè praticamente sapete quello che è successo Però ragazzi, quello che è successo è veramente una cosa assurda, proprio casuale quello che è successo Comunque non mi dilungo in cacchiere, cioè andiamo direttamente alla clip, bella Eccoci qua ragazzuoli, come vi ho detto siamo precisamente nel replay Perché purtroppo mentre stavo giocando con i miei amici dei Norway è successa una cosa praticamente assurda Sono qui appunto per farvela vedere ragazzi e io veramente questo video durerà poco Però regà dovete far girare questo video a qualunque persona Perché io voglio sapere nei commenti cosa ne pensate voi di tutto quello che è successo Allora la kill è stata fatta di no scoop da 204 metri Purtroppo qui i metri non si vedono, però comunque se voi stessi vi mettete in questo punto esatto Ve lo faccio vedere adesso Metto a meno, ok Metto play, ok Lo vedete questo pallino giallo qui? Questo era il tizio che stava correndo Io prendo il, appunto il caccia Ok Questo tizio stava correndo, lo vedete? Ok, io adesso vi faccio vedere che da qui Miro, poi tolgo la mira, sparo Ok E adesso col drone libero andremo a vedere il punto esatto dello sparo Perché voi vedete qui la traiettoria, no? Perché io purtroppo regà sono fatto proprio così Allora vedete la traiettoria, facciamo ancora così Ok, vedete quello là La traiettoria Seguiamo sempre ed esclusivamente la traiettoria Ok Continuiamo a seguirla Perfetto Per farvi capire che io ragazzi, cavolate non ve ne dico Ok, non era un headshot Perché comunque lui aveva poca vita Adesso lo sto guardando questo Però regà è sempre una kill Cioè, guardate POM E lui cade a terra 204 metri di kill in blind In no scoop quello che è Regà, sono il primo in Italia ad aver fatto una kill del genere Io penso che non c'è nessuno che in Italia ha fatto una kill di no scoop da 204 metri Ragazzi Adesso andremo a rivedere il tutto però in modo da giocabile, no? Quindi ritorniamo indietro qui Ok Vi faccio vedere un po' la partita Più o meno com'è andata Ok Mettendo appunto a 1 normale Ok Kill lo 1 C'era molta gente ovviamente Qua tutti a terra Vado da questo qua Perfetto Kill lo anche a lui E siamo a 2 kill Vedete qua sopra il numero di kill? 2 Perfetto Finisco quello là sotto Purtroppo in questo punto regà si sente tanto 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 rumore Quindi è per quello Comunque Qui adesso Parlavo con Al punto con i miei amici del team E Vedete No way revenge No way No AC No way Bisk Vedete? Ok In questo caso io qua Incominciavo a guardare un po' giù Un po' su E robe del genere Salivo su Ok Loro già stavano incominciando Ad andare Verso Appunto Parco Pacifico Mancava poco Io qui ho pensato Adesso mi faccio una benda No? Nel frattempo E Perché usare il lancia granate? Ma andiamo a prendere il caccia Eccolo lì Il caccia che mi ha fatto fare La kill da 204 metri Infatti adesso ritorno Guardo il caccia E lo piglio Lascio il lancia granate E con il caccia Tutto tranquillo Vado da loro Sto per andare da loro Loro sono già lì Uno è stato atterrato Uno del mio teammate È stato atterrato Allora io qua ragazzi Faccio l'impossibile Miro Sparo Boom L'avete sentito il colpo della kill Io in questo momento Stavo buttando voci In una maniera Pazzesca Ma voi non potete capire In che maniera Stavo gridando E tutti che mi hanno detto Dark che cazzo hai fatto Io continuavo Continuo a fare le kill Senza Senza fermarmi proprio Cioè Raga Veramente Ero proprio Una Una macchina da guerra Senza proprio Senza niente Lì Ormai ero proprio Non riuscivo neanche più a giocare Perché Ero troppo presto da quella kill Ragà una kill del genere Ecco Vedete che Qui qua davanti a me C'era un tizio Morto a terra Mi sa che ho finito No non ho finito Ok qui ho voluto provare appunto A fare la Come si chiama La Di nuovo il no scoop Ma non mi è uscito Ok Qui non avevo più Qui non avevo più materiali E ci sono morto Però raga Questa kill Resterà veramente Nella storia Raga è una kill Veramente assurda Cioè raga Dai Ho mirato Ho tolto la mira Boom L'ho preso E l'ho killato Raga Veramente Io non so cosa dirvi Raga Vi chiedo gentilmente Di lasciarmi un commento giù In descrizione Giù nei commenti ovviamente E farmi sapere Cosa ne pensate voi E se secondo voi C'è qualcuno Che mi ha potuto superare Ma non penso proprio Perché secondo me Sono il primo in Italia Appunto il titolo sarà Primo in Italia A fa A killare No aspetta Che titolo potrei mettere Primo in Italia A A fare Una kill blind Una roba del genere Vabbè vedrò io cosa fare Sperimenterò qualcosa Niente ragazzi Vi ringrazio ancora per la visione Ringrazio ovviamente No Way Revenge Ehm AC No Way Ehm Bli Blic Blisk Un cacchio Si chiama Non mi ricordo E anche C'era anche con noi KS Toggle E niente ragazzi Un bacione e un bacione e un bacione Dalla vostra Darkhouse 92 Ehm Spero che Questa Questo video Raggiungerà Più di 1000 like Lo spero veramente Con il cuore Un bacione e un bacione Dalla vostra Darkhouse 92 Anche se è bloccato di nuovo Però Non 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 ci sono parole Per descrivere Il bene che voglio io a voi E il supporto che mi date Tantissimo Vi ringrazio ancora di cuore Un bacione e un bacione Dalla vostra Darkhouse 92 Alla prossima Bella ragazzi Ciao a tutti